Migliorare la vivibilità del territorio grazie alla collaborazione con cittadini, titolari di attività e visitatori. Con questo obiettivo, Sistema Ambiente e Comune di Lucca hanno accolto la proposta del Rotary Club Lucca per la campagna di sensibilizzazione attraverso un fumetto disegnato da David Bigotti con lo scopo di informare in modo semplice i turisti sul corretto conferimento dei rifiuti sia nel centro storico che nelle periferie. La mascotte della campagna si chiama Gino Piccione. Il fumetto con le avventure di Gino e Piccione sarà tradotto in due lingue con un fronte retro tradotto in quattro idiomi che rimanda al sito di Sistema Ambiente una campagna che sarà ripresa anche da Lucca Crea per il progetto di educazione scolastica in programma da parte di Sistema Ambiente per il prossimo anno. Ci auguriamo che questo strumento gradevole e di facile consultazione contribuisca a fare in modo che il comportamento di visitatori e turisti che in misura sempre maggiore arrivano a Lucca si acconsono al rispetto della bellezza della città, hanno spiegato il presidente del Rotary Giuseppe Lunardini e il socio Martinelli. La campagna prevede un coinvolgimento dell'agenzia di viaggio e degli ambiti turistici per la distribuzione capillare oltre a quello delle scuole. Ancora una volta il Rotary Club Lucca sostiene l'amministrazione comunale e il Sistema Ambiente in questo grande progetto, in questo importante progetto di sensibilizzazione per il decoro della nostra città e per tutelarne le bellezze. È stata scelta in occasione di questa collaborazione con il Rotary Club Lucca una modalità anche molto simpatica, molto intuitiva, quella del fumetto, di facile accesso agli adulti e ai bambini, in modo da poter poi diffondere questo messaggio anche nelle scuole, quindi attraverso i bambini che poi a loro volta lo portano nelle loro famiglie e presso i nonni.